musica 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 azi andiamo qua a Livigno andiamo la ma ma che cazzo ma è stronzo Pacific some musica musica face musica mm musica 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 maledetto lui ma è da questo è un cazzone potremmo incastrarlo in qualche modo mi sto cacando addosso la donna il non munizioni edition potrebbe essere un problema c'è tanto tanto da fa cazzi dove vai non puoi dire così all'ultimo cristo dio vacca to dio senza pensiero c'è un cazzo da fare e giocavamo a code in deathmatch ma qua fondamentalmente adesso non ho di armi non so quale usare il bersaglio nemico ah 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 avete cercato in arrivo ce l'hanno con me ah ma la gente adesso ancora che ci casca ai drop shot è bellissimo questo gioco come sono bellissime le facce che faccio mentre gioco fondamentalmente ho notato che quando sono concentrato faccio delle smorfi tipo faccio un po' così ma che è ma che è oh concentrazione è oltre questo arriva al 120 tipo per cento da stanno si o sopra o sopra non ho sard non ho sard ci sono i sardi ci sono i sardi no dio non ti preoccupare meguro 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 dove sei in boscao ah cazzo cazzo dal tipo dal tipo uno l'ho sdraiato ma ok ok eh 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 ma che sta sì è buono sto game ma hanno rissato qua sotto alla nuova zona sicura madonna signori con 11 bombs in grande stile qua questo è da canale questo è da canale ha guittato sto coglione cioè io gli regalo un game così pulito questo come ha guittato